Ieri un sopralluogo nel sito di Santa Lucia dove si stanno realizzando le case da consegnare al popolo dei prefabricati, a che punto è questa operazione che dovrebbe concludersi al più presto con la consegna materiale nelle mani di questi nostri concittadini degli alloggi? Diciamo che eravamo da oltre un mese in attesa della consegna di alcuni infissi per completare i lavori. Finalmente ieri mattina sono arrivati e quindi con la posa in opera di questi infissi e la realizzazione della cabina elettrica, alla quale si metterà a mano praticamente la lunedì, quindi da subito, saremo finalmente pronti per la consegna dei 68 alloggi di Santa Lucia. È una cosa storica perché è un contributo determinante al processo di eliminazione delle baracche e già dalla prossima settimana inizieremo ad individuare il termine a decorrere al quale appunto sarà possibile la presa di possesso da parte degli assegnatari di queste case che devo dire sono di ottima fattura, la ditta ha fatto un ottimo lavoro e quindi c'è grande attesa da questo punto di vista. Questa consegna, insieme alla consegna che tarderà ancora di un mesetto ma è prossima altrettanto dei 24 alloggi di Pregiato, consentirà di eliminare completamente i campi container di Santa Lucia e di Pregiato. Per quello di Santa Lucia in quanto è necessario eliminare queste baracche perché sono anche vicino a una scuola infantile dell'infanzia che da settembre prossimo dovrà tornare nella propria sede originaria, attualmente è stata decentrata. Per Pregiato è necessario eliminare il campo a container anche perché così si libera l'area di sedime per la realizzazione degli ultimi interventi edilizzi che consentiranno realizzare le ultime case per eliminare completamente le baracche dalla città. Devo aggiungere che in prospettiva ci auguriamo che l'iniziativa dell'ente di consentire a chi attualmente rimarrà nei prepubblicati circa 70 famiglie composte da una o due persone, chi volesse accettare l'offerta del Comune di 250 euro al mese per una sola persona o di 300 euro al mese se sono due persone per trovare una sistemazione autonoma in attesa di realizzazione dell'ultima tranche di case, appunto il Comune è disponibile a disporre queste somme sul bilancio di prossima adozione in modo da consentire il completo smantellamento dei prefabbricati nell'arco dell'anno in corso. Ovviamente è uno degli obiettivi primari che l'amministrazione dall'inizio mandato sia la proposta e che mi pare ormai stia diventando a portata di mano.